Si festeggia l'ultimo venerdì del mese di maggio e in questi giorni che precedono questa festa facciamo questo pellegrinaggio nei nostri quartieri a recitare il mosaglio con la speranza di coinvolgere il maggior numero di persone, almeno a livello di interesse anche se la preghiera poi lì dove ci fermiamo può essere fatta e in altri posti no. Comunque tutti sono informati perché tutti hanno ricevuto il foglio e noi, questo piccolo resto di Sdraele, fa quello che può. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vieni al principio del seguito di secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe e che segnaci dal foglio dell'interno. O che il cielo di tue anime è specialmente le più bisognose nella tua misericordia e donaci sante evocazioni. Primo mistero gaudioso. L'annunciazione dell'angelo a Maria. Allora Maria disse all'angelo Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. In questo mistero del rosario terremo questa particolare intenzione per tutti i giovani della nostra chiesa diocesana perché siano coraggiosi nel dire il loro sì al Signore senza timore. Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra chiesa diocesana o Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e donaci sante vocazioni e canto mentre ci trasferiamo in un altro cortile è il centocinquanta cento centovantacinio Santa Maria del Cammino sempre sarai con te ieri o madre in mezzo a noi ieri Maria qua giù cammineremo insieme a te verso la libertà quando qualcuno ti dice tu non hai